Contrada Carapollo cambierà volto, un'operazione da 7 milioni e 200 mila euro divisi in due lotti. In una prima fase la realizzazione del nuovo ponte che collegherà la strada di Carapollo con il raccordo dell'8-0 in possibilità del centro sportivo Acquaviva. In una seconda fase invece ci sarà il rifacimento del ponte a catena che andrà a migliorare la viabilità cittadina. Il progetto ha superato lo stato di fattibilità ed è alla ricerca di finanziamenti. Se questo progetto riuscirà ad ottenere un finanziamento nel giro di pochissimi mesi ovviamente passeremo da uno studio di fattibilità a uno studio a un progetto definitivo ed esecutivo per poi ovviamente procedere all'affidamento dei lavori. I lavori, ricorda il vice sindaco Giovanni Cavallari, non saranno immediati ma la riprogrammazione è ripartita per migliorare non solo la viabilità ma anche le attività della zona. Iniziamo a Teramo Ambiente che tipo di problemi ha avuto in quest'ultimo periodo ci sono state le condizioni meteorologiche un po' avverse dove il ponte a catena non era transitabile e quindi dovevano per raggiungere il deposito dovevano passare da Poggio Cono. E quindi devo dire che secondo il nostro progetto, secondo la nostra visione di questa amministrazione è sicuramente un'elevazione qualitativa, non solo qualitativa, un miglioramento della viabilità ma anche infrastrutturale. Altri studi di fattibilità riguardano la messa in sicurezza di altre due infrastrutture del comune a Prutino, Ponte San Francesco e Ponte della Cono nei pressi del Bivio per Torricella, a cui si aggiungono i lavori realizzati da Strada dei Parchi per la messa in sicurezza delle cinque rampe di accesso e uscita dalla Teramo Mare per un valore di 5 milioni di euro. Sotto il profilo della progettazione e della riprogrammazione della viabilità a livello cittadino si stanno facendo passi da giganti. Oggi abbiamo una visione che possiamo ovviamente tenere a disposizione per tutti i canali di finanziamento che riusciremo a trovare anche grazie al PNRR.